Su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, la Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro emesso dal Tribunale nei confronti di una società esercente all'attività di call center e del suo rappresentante legale, un 52enne originario del Vallo di Diano, intagato per aver frodato il fisco. L'esecuzione della misura cautelare giunge al termine di un controllo fiscale del nucleo di polizia finanziaria, nel corso del quale sono state riscontrate gravi irregolarità nel versamento dell'IVA, dovute in base al fatturato dichiarato dalla società. Il responsabile, infatti, pur evidenziando nella dichiarazione annuale un debito d'imposta per circa 950 mila euro, ne ha omesso il versamento all'erario nei termini previsti, incorrendo così nelle sanzioni amministrative, soprattutto in quelle penali stabilite dalla normativa vigente. Le fiamme gialli hanno pertanto sequestrato disponibilità finanziarie sui conti correnti della società e del suo rappresentante legale, quote sociali di tre aziende riconducibili all'indagato, e messo i sigilli ai beni fabbricati e terreni che si trovano a Battipaglia, Padula e Tortora, il tutto per un valore compressivo di circa 900 mila euro.